orchestra giovanile di fiati paolo ragone di laureana di borrello provincia di reggio calabria sotto la direzione del maestro maurizio managò la banda eseguirà il brano d'obbligo di michele mangani spring music e il brano a scelta di thomas dos storia montana buon ascolto grazie 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 a tutti 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 grazie a tutti